La vita di Maria non fu un viaggio ricco di sorprese gioiose, ma come quello di un nomade che attraverso il deserto e affronta sorprese, pericoli, stanchezza. La dimora nella grotta di Betlemme dovette essere breve, forse di 3-4 giorni, non più di tanto, a misura che il censimento andava avanti, gli appartamenti, le case di affitto si moltiplicavano e quindi Giuseppe certamente trovò un'abitazione dove trasferirsi dalla grotta in questa casetta. Ed è in questo nuovo luogo che avvenne l'arrivo dei Maggi, è in questo luogo che avvenne poi la presentazione di Gesù al Tempio. Ed è in questo luogo che abbiamo le varie circostanze in cui viene riconosciuta da poche persone, la figura di Maria, la figura di Giuseppe e anche del bambino Gesù, quanto è bello, ma nient'altro che questo. Nel racconto della fanciulezza di Gesù si evince che Maria non è che seppero tutto quello che doveva essere la vita del loro figlio. Scoprirono piano, 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 quale doveva essere la missione di Gesù. E questa situazione creò un'attenzione di abbandono, di fiducia, di fede in Dio, nella promessa di Dio. Quindi non è che Maria tenesse l'agenda e giorno per giorno guardava quello che doveva avvenire, ma si fidava di Dio e leggeva il libro del progetto di Dio. Liberi quindi doveva essere dalla cupidigia della dere e quindi Maria non si liberò dei beni economici perché non ne teneva, era povera, ma dovette liberarsi di quello che lei aveva di più sacro, del diritto di maternità, dell'esclusività su Gesù. Gesù non era solo il figlio suo, ma era il figlio di tutti gli uomini, apparteneva a tutti gli uomini. Figlio perché non fosse solo suo, ma di tutti. Liberi, bisogna essere per un cammino di santità, liberi dalla bramosia del possedere. Gesù ammonisce agli uomini di non lasciarsi affascinare dalle ricchezze. Bisogna progettare e lavorare ma senza ansia. Bisogna essere liberi dalla sete del potere, liberarsi dalla tentazione di dominare. Gesù è venuto sulla terra per servire e non per essere servito. Liberi anche dagli affetti. Gesù con la sua sottomissione a Maria e Giuseppe esalta il valore della famiglia, espressione dell'amore trinitario. Liberi anche dall'angoscia, i discepoli sono chiamati a dare prova di coraggio. Non devono temere di essere emarginati o perseguitati. Per amore della giustizia, della verità, devono essere donatori di se stessi. Questa è la missione dei seguaci di Cristo Gesù. Se scantoniamo da questa linea possiamo anche avere un'affermazione nella società, nel mondo, ma ci riduciamo ad un elemento prettamente umano e non possiamo dire che abbiamo seguito Gesù Nazareno che è venuto a tracciare una linea meravigliosa per ricostruire sulla terra un mondo migliore.